Con l'ammissione in graduatoria per un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza delle strade della città, resta gravissima la situazione inerente alla Statale 18 a Nocera Superiore, teatro di moltissimi incidenti e anche mortali, non ultimo quello di sabato notte, dove a perdere la vita per un sorpasso l'azzardato è stato il 17enne di Orta Loreto, una frazione di Sant'Egiro del Monte Albino, Raffaele Rossi. Un'arteria che è avversa in condizioni precarie e con una pericolosità altissima, tutte criticità che il sindaco Cuofano ha fatto più volte presente alla regione Campania, con note emissive indirizzate agli organi preposti. Il primo cittadino per sensibilizzare ulteriormente il problema alcuni mesi fa aveva anche paventato l'ipotesi di chiusura dell'arteria. I problemi della Statale sono da attribuire al torrente Cavaiole, che dopo essere stato oggetto di intervento durante la passata amministrazione, il letto del torrente si è notevolmente abbassato, oltre allo spondamento delle pareti. Proprio conoscendo queste criticità, il primo cittadino nocerino aveva chiesto alla regione un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro. Dunque è inutile aspartare ex novo in manto stradale, se alla base ci sono problemi ben più gravi. Cuofano si augura che ben presto si possa divenire ad una risoluzione del problema e mettere in sicurezza con il rifacimento del manto stradale e l'installazione di telecamere dell'arteria molto trafficata.